Non si è prossimi ai cento anni di storia per caso. Turisanda 1924 ha accompagnato la vita del nostro paese con una notorietà cresciuta di generazione in generazione. Oggi, un nuovo grande passo storico e strategico. Turisanda 1924 si evolve ancora per accogliere l'intera programmazione con tutte le principali linee di prodotto di Piagidea. Per anni, la stella polare del segmento tailor-made italiano. La nuova Turisanda è elegante a partire dalla sua nuova immagine. E la sua mission è soddisfare nei minimi dettagli i bisogni del cliente più esclusivo ed esigente ed essere contemporaneamente il punto di riferimento per l'intero settore tailor-made. Entrano così nel suo mondo altre due realtà. Press Tour by Turisanda per chi cerca un'offerta su misura ad un prezzo accessibile. E Made by Turisanda per chi viaggia sospinto dalle proprie passioni e da interessi specifici raccolti in otto differenti collezioni. Emozione, suggestione e avventura. Attenzione all'ambiente e alle persone. Lusso e accessibilità. Tante anime unite da un'unica certezza. Oggi nasce la nuova Turisanda. Turisanda. Sempre una nuova destinazione. Tur.